E' Gubbio il comune più colpito dagli incendi boschivi di questo 2021, fin qui annotati, così come risulta dal bilancio a fine estate presentato dal comando dei carabinieri forestali dell'Umbria. Dei 75 incendi boschivi avvenuti su territorio regionale, 8 sono accaduti nel Leogubino, due dei quali in località Villamagna e Carbonesca, nel mese di agosto dove sono bruciati quasi 90 ettari di bosco. Nella provincia di Terni il comune più colpito è stato quello di Terni, con 5 eventi che hanno interessato complessivamente 14 ettari di bosco. Se si guarda l'intera regione sono 270 gli ettari di territorio andati in fumo, oltre la metà sono boschi per complessivi 180 ettari. Riuscire a stabilire il punto di innesco e le cause che hanno generato le fiamme può agevolare l'attività investigativa per risalire ai responsabili. Nel 2021 sono stati 10 responsabili denunciati e una persona arrestata. La tecnologia è al servizio dell'investigazione che consente di arrivare a chi ha dato il via per dolo o per incidente alle fiamme. Tramite 8 modelli geometrici che tengono conto della topografia del terreno è possibile conoscere la propagazione delle fiamme e successivamente risalire al punto di innesco dove è possibile trovare traccia di chi o di che cosa ha dato il via alle fiamme. Tutto confluisce in una banca dati che alimenta il catastro incendi presente in ogni comune, individuando le aree boschive dove ricadranno per legge i vincoli previsti, 15 anni per il cambio di destinazione, 10 anni per la realizzazione di edifici e 10 anni per divieto di pascolo e caccia in tutta l'area percorsa dal fuoco. La nuova normativa emanata negli ultimi giorni dal governo, se convertita in legge, prevede anche il vincolo di 3 anni per la raccolta dei prodotti del sottobosco, oltre che l'inasprimento di tutte le pene a carico dei responsabili.